Grazie Presidente. Il 26 novembre 2021 è stato sottoscritto a Roma il cosiddetto Trattato del Quirinale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per la cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia. Oggi quest'Aula è chiamata, come ricordava il collega, alla ratifica di tale trattato dopo i passaggi nelle commissioni parlamentari e l'approvazione alla Camera del maggio scorso con il voto contrario di Fratelli d'Italia. Qui non è in discussione l'importanza di tale accordo, anzi sicuramente l'accordo è molto importante e anche per questo direi suscettibile di gravità. Quello che vogliamo sottolineare è un difetto di metodo e alcuni difetti potenziali, anche rischi direi, di merito. Intanto vale la pena di ricordare che l'idea del trattato nasce in un summit bilaterale del 2017 durante l'allora governo PD di Gentiloni e la sinistra italiana non ha mai smesso da allora ad oggi di farsi portavoce degli interessi francesi in Italia, mentre per Fratelli d'Italia è prioritario l'interesse nazionale. Infatti, mentre si costruiva il trattato del Quirinale, la Francia provava a dare esecuzione unilaterale, priva di fondamento giuridico, come poi la cronaca ha dimostrato, a quello che definiamo il piratesco trattato di Cain, che ci avrebbe sottratto pregiate acque territoriali naturalmente a favore della Francia. Trattato che per fortuna non è mai stato ratificato dal Parlamento, come è noto, anche grazie a Fratelli d'Italia che lo ha sempre denunciato e fortemente contestato. Dicevamo innanzitutto una questione di metodo, in quanto la sottoscrizione del trattato è stata preceduta da trattative non trasparenti, se non addirittura direi segrete e comunque senza una discussione preliminare in sede parlamentare. Insomma, cari colleghi, il trattato è stato ratificato nella più assoluta, vogliamo dire, riservatezza, poi portato all'interno delle commissioni, senza particolare enfasi, come si trattasse di un atto, diciamo, marginale o di una mera formalità. Eppure non è così, perché il trattato prevede impegni importanti in materie altrettanto importanti. Ne cito solo alcune, anche per quelli che non stanno ascoltando, ne cito alcune da quella relativa allo spazio che la Nato ha individuato come il quarto dominio, quindi un ambito importante, ma anche materie come l'industria, come la difesa, come anche evidentemente le disposizioni sulla politica climatica passando attraverso la questione dei confini, lo sottolineo, e delle questioni migratorie, lo sottolineo, per giungere alle materie non marginali di carattere economico degli scambi commerciali, anch'essi disciplinati molto da questa intesa, e in particolare nell'articolo 5. Il presidente francese Macron, alla cerimonia di sottoscrizione del trattato al Quirinale, pare abbia sottolineato che tale trattato colmava l'assenza di un accordo italo-francese simile al trattato dell'Eliseo del 1963 concordato tra Parigi e Berlino. Dimenticava però... Chiedo scusa a senatrice Rauti, colleghi vi chiedo di abbassare di molto il tone della voce, perché la senatrice Rauti non ha un tono flebole, cioè nonostante anch'io faccio fatica a sentirla. Grazie. Prego senatrice. Dimenticava quindi il presidente Macron di sottolineare quella che invece appare, oggi ancora di più, come un'anomalia di cui pare tutti si siano dimenticati, ma noi no. Ci riferiamo al trattato di acquisgrana, una sorta di trattato di ferro che la Francia ha sottoscritto con la Germania nel 2019, in particolare sui temi della difesa, e lo ha fatto, ricordiamocene, infischiandosene dell'Italia, delle ricadute sull'Italia e anche sul resto degli altri paesi europei. Anche questo va detto. Insomma, cari colleghi, la sensazione è che a Parigi piaccia ricevere delle deleghe in bianco, stabilire le regole del gioco. Ed è per questo, anche per questo, che almeno è legittimo il dubbio che l'Italia non otterrà grandi vattaggi dalla sottoscrizione di questa cooperazione rafforzata. E i sostenitori del partenariato italo-francese, i fanatici, quelli che qualcuno con un neologismo ha definito i dracron, si capisce evidentemente il neologismo come nasce, sostengono invece che si tratti di uno strumento politico per superare i disaccordi a livello bilaterale europeo. E' un trattato caratterizzato dalla volontà di rinforzare il nucleo centrale dell'Unione europea. Quindi costruire un'alleanza strategica Parigi e Roma. Insomma, tanta roba si direbbe con un'espressione un po' dialettale. Ecco, Fratelli d'Italia invece ritiene, e vengo alle questioni di merito, che il trattato franco-italiano determini, e non uso mezzi termini, una subordinazione della nostra nazione nei confronti della Francia. Una subordinazione in settori estremamente importanti, come quelli che ho già menzionato mentre alcuni chiacchieravano, ma anche, aggiungo, in campo finanziario, agroalimentare e naturalmente politico. E ancora, la cooperazione rafforzata con la Francia, che abbiamo sottoscritto, coincide però con una serie di rivendicazioni strumentali sui confini privi di base storicamente e giuridicamente legittima. Ad esempio, un esempio plateare, l'annosa ed irrisolta questione del Monte Bianco, sulla quale la Francia dichiara, come se niente fosse, che avrebbero perduto la copia delle carte geografiche allegate al Trattato di Torino del 1860, che definiva, guarda caso, in modo inequivocabile, quale fosse la linea di confine. E' bene ricordarle queste cose. E allora, cari colleghi, continua a stupire, non solo che un trattato così importante sia stato studiato, concertato in una situazione poco trasparente, senza un vero dibattito politico e parlamentare, ma anche che supisce anche che tutto ciò accada nel pressoché totale silenzio dei media. E non possiamo nascondere, anzi non vogliamo nascondere alcune nostre preoccupazioni, come ad esempio gli impegni in materia di immigrazione, perché l'accordo bilaterale Italia-Francia rischia ancora una volta di rivelarsi penalizzante per il nostro Paese, che deve diventare un campo profughi. Nonché ci preoccupa molto, gli accordi di Malta insegnano qualcosa, nonché ci preoccupa molto il reterarsi delle condotte di alcune aziende francesi che hanno acquisito, attenzione a condizioni di favore, importanti realtà produttive del nostro Paese, ne cito solo alcune, Parmalat, Galbani, Invernizzi, Valle Alata, Locatelli e potrei continuare, procedendo poi in alcuni casi alla delocalizzazione delle attività con una grande ricaduta negativa sull'indotto occupazionale italiano. E non possiamo disinteressarci di questo. Per non parlare poi, e mi avvio alla conclusione, di quanto si è verificato e potrebbe ripetersi nel settore bancario, nel quale alcuni istituti francesi hanno fatto addirittura shopping, shopping in Italia, come dimostrano i casi di BNP Paribas, che ha acquisito Banca Nazionale del Lavoro, e del Credit Agricole, che ha acquisito Caripame, Banca Popolare Friulana. E anche qui, purtroppo, cari colleghi, potrei continuare. Come la mutiamo, infine, questa cooperazione rafforzata rispetto alle profonde divergenze sulla crisi libica, dove la Francia non si è fatta o scrupoli nello scavalcare l'Italia e andare contro gli interessi dell'Italia. Ecco, io non so come la metterete. Una cosa però la so, la sappiamo, una cosa è certa, è certa oggi e il sappiatolo è certa sempre. Fratelli d'Italia vigilerà su questo e su altri trattati, tutelerà sempre e non si arrenderà mai di fronte a nessuna forma di cessione di sovranità nazionale. Grazie.